L'ambizione è quella di ottenere il successo del Cammino di Santiago di Compostela, simbolo della religiosità riconosciuta in discusso. L'Abruzzo nel suo secondo anno riceverà i pellegrini che da città del Vaticano percorreranno 300 km e dopo 12 tappe all'interno di strutture messe a disposizione dai comuni aderenti, giungeranno al santuario del Volto Santo di Manopello. Questa grande iniziativa che investe il Lazio e il nostro Abruzzo va nella direzione di valorizzare tutta una serie di strutture religiose, strutture culturali e soprattutto questo bellissimo territorio che è l'area interna della nostra regione. Secondo me nei prossimi anni se ne parlerà veramente bene e potrebbe essere quasi alla pari del Cammino di Santiago di Compostela. A sottolineare la valenza turistico-religiosa di questo percorso spirituale istituito dalla regione Abruzzo, c'è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che sottolinea come nell'anno del Giubileo particolare importanza sia stata data ai pellegrinaggi oggi considerati come turismo slow. Noi come a livello statale abbiamo per volontà del Ministro indetto il 2016 come anno nazionale dei cammini. Il tema che noi abbiamo davanti è che questi percorsi debbano essere anche un valore aggiunto per i territori. L'Abruzzo è un territorio ricco di aree interne che magari hanno una sofferenza maggiore rispetto al turismo costiero e invece attraverso questo turismo slow, che tra l'altro il Ministro lo vede come un turismo legato anche ai percorsi, quindi dalla bicicletta al cavallo. Poi avete un altro elemento interessante che è quello dei treni storici, che possono comunque abbinarsi anche al tema dei cammini. E noi come Ministero abbiamo stipulato una convenzione proprio con la Fondazione Ferrovia dello Stato che è quella che promuove per dire il bellissimo treno, la transiberiana dell'Appennino, che è quello da Sulmona ad Isernia.